Vedi la marcatura? È molto più stretta. Stanno staggati perché si sono... Sì, è più come strategico questo gioco che veramente quello che è. Loro dicevano adesso che era un gozo di forza. Eh, tanto di forza. Ma non è tanto di forza. È di forza, sì. Fanno pesi, fanno 12 chilometri al giorno di allenamento. Si scappano dai. Ma non è tutto lì. Quasi. Sì. Cos'è vero? Vedi che sta spingendo indietro. Come diceva il tiro? Adesso spingi, tu puoi avere la palla tra tutti. Vedi? Lascia che spingi il tumore, la palla. Poi uno vuole libero, gli altri hanno la palla. Sì. Ma tu hai la palla. Sì le trombone. Non lo vedo. Ma l'importante è quello. Vedi e lo metti nel lago. Ma lì è lì! Ma lì è lì! Ma lì è lì! Ma lì è lì! Ma lì è lì!